Musica 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 Partiti, la fase vincente Erdmiro tiene bene Transmier Casadino fase di stallo per i due atleti fase di studio, prova a chiudere Clostadino ma non ce la fa, Erdmiro nel gancio è micidiale adesso prova a andare in paglincente ma non riesce a spostare il gancio di Erdmiro Facciamoci sentire perché questo veramente è un incontro spettacolare veramente spettacolare fase di stallo prova Erdmiro qui si va a chi cede prima prova a chiudere Clostadino Edmire può spostarsi con le spalle tutti e due fermi qui sicuramente vince il gancio partiti partiti non riesce Transmier la fase vincente Transmier per arrivare veramente un match spettacolare un match che adesso prova a chiudere lì e vince Transmier Costantin il primo potuto 6 7 8 8 8 8 9 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 Grazie a tutti! Grazie mille, questo lì vince!